Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 10 e 500 si registrano 5 chilometri di coda tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. In a 1 o 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 298 tra Firenze Imprunete e Firenze Sud verso Roma. Codi a tratti invece in direzione Bologna per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante Divalico. A Firenze si sta svolgendo in questo momento la presentazione delle squadre del Tour de France 2024 fino alle 21 chiusi al transito Viale Michelangelo da Piazza Ferrucci a Via San Miniato a Monte e Viale Galileo da Via San Leonardo a Piazzale Michelangelo. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!